Sì ragazzi, oggi ragazzi siamo in un nuovo video, oggi ragazzi siamo, in poche parole, questa sarà una, tipo una serie dove porterò dei miei giochi indie, allora, porterò dei giochi indie, iniziamo subito, allora, oggi ci abbiamo Cat Mario, facciamo click to start, e in poche parole, da quello che so, è un gioco molto... Come posso dire, è un gioco molto troll, che gira molto sulla rete per far incazzare i youtuber, ecco qua, mi sta già facendo venire l'ansia, ok, e scendi, iniziamo bene, ah no, è uscito ma... Ok, ma... Iniziamo, proviamo, ha davvero pazienza, ok... 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 Porca tro... Ok... 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 Come faccio lì? Aspetta, non è che devo fare così... Così... Ok... 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 Eh... Allora... Andiamo da qua... Meglio di no... Un po' così veloce... Ok... 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 Ma porca... Aspetta... Posso usare USD? Ok... Che è meglio... Perché con le freccette... Non è molto comodo, ragazzi... Io devo stare... Cinto... Dodici morti... Ok... 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 Allora... Dobbiamo essere... Concentrati... Allora... Mannaggia sto blocco... Eh... Ragazzi... Ok... 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 Eh... 1... 2... Eh... Mannaggia ste palline... Ok... Ok... Senza beccarlo... Cazzo... Mi va avanti... Mannaggia... Eh... Ok... Hmm... Ragazzi... Forse era meglio... Che giocavo DPT... Eh... Eh... Ok... Ok... Hmm... Ok... No... 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 Uh... Eh... Fortuna! Checkpoint... Si! Ok... 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 Però... Sono arrivato al checkpoint... E per fortuna... Aspetta... Prendiamo... no c'è pure il troll ok oh no ok ok, ok ok ok, ok ok allora, lò qua ok 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 pazienza ci vuole tanta per questo gioco no 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 mannaggia questo giochino aspetta posso andare nel tubo no con la nuvoletta ho visto qualche video su questo gioco con la nuvoletta è malvagia ok 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 no 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 è morto il cancheretto ecco qua di nuovo sto blocco ok 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 mannaggia il demonio ok devo fare sto livello nuvoletta malvasa dai venite brutti schifosi no 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 yaku cacchio ok ok ecco qua salta salta nuvoletta malvagia ma aspetta dopo ci controllo se è malvagia allora perché ragazzi ho visto qualche video e ho visto che quella nuvoletta lì c'ha le spine anche io che ci cado ogni fottuta volta ecco qua no no a me non serve a niente le monete in questo gioco ok aspetta no non è malvagia io pensavo che era frutto del demonio perché devo andare per forza lì ho ok sì oh no ok dai spuntate dio 51 volte sono morto In un solo livello Ok No Ok 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 Salta No No Ok riproviamoci ragazzi Ok ok Ecco Ecco qua di nuovo Ci risiamo Va vabbè No Come faccio lì Uno sa l'assoluzione Ok 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 Che faccio qua Vabbè Devo morire per forza Frano Come faccio lì Boh Allora Ok 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 Non mi ho ricordato Mannaggia Ragazzi adesso vi mostro Il trailer di questo giochino Ok Adesso ci riesciamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Era malvagia. Mannaggia la nuvoletta schifosa. Ecco qua. Non ho svolto tutto, Dio Bono. Eh... Ok. Ok ragazzi, ci provo l'ultima volta perché... Non è troll. Alla fine non si può fare. Ok, ok, ok. Sì, sì, sì. No, no, no. Mannaggia. Ok. Ok ragazzi, passiamo al secondo gioco. Ehi tu, sacchetto di menda. Vorresti comprare questo gioco? Ti farà bestemmiare come uno scaricatore di porti. Compralo ad un euro in edicola. Eh ragazzi, questo è il secondo gioco che si chiama The Mace, che me l'ha consigliato il mio amico. E ho visto che si chiama Scary Mace, perché tipo in questo gioco è tipo... Come posso dire? Una specie di... Cioè, è un videogioco molto vecchio, mi ha detto questo amico. E come posso dire? Ricorda un gioco horror perché... Ricorda un gioco vecchio, lo stile horror. Va bene. Iniziamo. Ok, 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 ok. Si deve fare così con il mouse. Ok. Anche questo gioco è un po' troppo... Ok, allora. Ok, 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 ok. Bene, benissimo, benissimo. Non ben... Ok. Ok. Sii, sii, sii. Non devo prendere le parti nere, altrimenti muoio. Ok. Sii, sii, sii. Sii, sii. Sii, sii. Cazzo. Ma annaggia l'amico. Li morisse... Li... Li morisse... Li venisse... Un crampo all'orecchio. Questo è un gioco horror. Ok, ragazzi. Siamo nel secondo gioco. Ragazzi, questo non è proprio un indie. Proprio un vero indie. Ragazzi, questo è Resident Evil 7. Non è proprio il gioco vero, ma... Come posso dire... Come posso dire la demo? Allora, iniziamo subito. C'è un pochettino giocato a Resident Evil 7. Dico che è proprio un bel gioco. Però a casa di un mio amico. Adesso esploriamo un po' la casa e devo trovare una via di uscita in questa demo. Allora, non so chi bene chi sono, che nel gioco originale sono uno che si chiama Ethan Winters. Però, non lo so. Allora, vediamo qua. Qua c'è del cibo. Non cibo, cioè le schifezze. Qua un corvo morto. Proviamo, andiamo a vedere un po' in giro qua. Oh, delle tronchesine. Allora, qua c'è delle tronchesi che possono servire per il gioco. Qua posso esaminarle pure, come vedete. Allora, ok. Andiamo avanti. Mi serve una chiave per uscire. Vabbè, il solito di Resident Evil. Ah, qua posso usare l'elettronchesine. Ecco. Ecco. Filmante di casa abbandonata. No, ok. Come si chiama? Filmato casa abbandonata, ok. Allora, andiamo un po' in giro. Ad esempio. Ragazzi, se volete che porto proprio il vero Resident Evil quello proprio Resident Evil 7 vero oppure anche qualche capitolo di Resident Evil chiedetemelo. Allora, non funziona. Non funziona la corrente. Eh, da quello che so devo trovare un fusibile. Dito del manico. Del manichino. Devo infilare qualche manichino qua. No, questi non c'hanno le braccia. Esaminiamo. Ma, questo dito non c'è niente di male. Qua posso aprire il cassetto, no. Eh, torniamo giù. Allora. Comunque, questa demo sarà tipo Outlast. Un motore, tipo. Un motore che si aziona. Quello che sento. Ok, adesso andiamo a mettere la videocassetta qua. Vi Spraccellerò Contro la pietra. Vabbè, mettiamo la videocassetta, ragazzi. No. Ecco qua. Mettiamola. Allora, il video dura un'ora. Ok. Ok. Ah, posso guardare... Posso guardare... Posso girare in un filmato, tipo. Ok. Quello nuovo? Non mi piace. Qualcun? Non ti stupire se dovremo rimpiazzarlo. Piano B. Apriamo, filmiamo l'interno e poi parte l'inno. Come sempre, insomma. dì il nome del programma stavolta. Tranquillo. Stasera su Ecritos un altro posto del cazzo. Felice? Felice? Non loro. Ok, vedo che l'ha aperta. Ok, vedo che l'ha aperta. Allora, perché? Siamo usciti all'interno? Ti prepari mai? Cosa abbiamo? Casa schifosa? Dimori strani? Uh, è stragata? Che cazzo? Era un presentatore io. Sospituto, Pete. Sospituto. Cosa? Nuna. Ah, quella era l'amante d'alvo aperto io. Una fattoria abbandonata, una famiglia scomparsa, è forse un delitto. Si so. Ma quando hai detto che hai abbandonato? Tre anni. Clancy, il pilva questo. Ottimo inserto. Ok, quindi... Quindi, poi io sono questo Clancy. Ok. Che è successo? Andrà, andrà, andrà qua, bimbo. È morto. Eh, accadente un dirindice niente. Oh, cazzo, non posso credere. Andiamo a vedere un po' dov'è Clancy. Ok. Dov'è sto bimbo? Eh, Clancy, non dice niente. E' loro. Andrei! Dove cazzo? Ma è provato da aprire la che? Visto qua, c'ha le mani, le mani dorate. E' spostati, bimbo, merda. Qua un po' so toccare il piano. Qua c'è la televisione. Quella dove adesso io sto guardando il video. Così io posso abbassare. C'è qualcosa lì? Oh! Ti posso entrare, alzati. Facciamo così. Ok, ci sto scendendo giù. Ecco qua. Oh, c'è André! Oh, bimbo, vieni! Oh, cazzo. Oh, no! E' morto! Ah, quindi Clancy è morto, vabbè. Ah, la cassetta dura un'ora perché ti sfaccelerò con una pietra. Abbastanza inquietante la faccenda. Adesso sono Clancy, tipo. Allora. Chiave, chiave, porta sul retro. Va bene. Qua non ci posso andare. Mmm, no. Ah, la porta, la porta per uscire. Scappa, scappa. Ma che è quel tizio? Oh, bimbo! Cazzo. C'ho paura. Non... Non fare rumore, mannaggia sta sedia. Cazzo! Corri, corri! Eh... Via! Sì, sì! Oh! Ho tirato un cazzato in faccia. No, volevo uscire. Ah, adesso arriva la parte dove mi slega sto qua. Questo... Questo era il tizio dello show. Ma in inglese è in sta parte. Ah, quella è mia. Oh, no. Io, tipo... Io, tipo... Ah, tipo, io sono Clancy. Beh, rip Clancy, vero. Non c'era via di fuga. Benvenuti in famiglia. Gennaio 2017. Vabbè, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. E ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao! 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 Grazie a tutti